siete pronti per una piccola storia divertente delle otto e mezza di sera questa copertina che adesso non so perché abbiamo messo in bagno perché non sapevamo dove mettere è la prima foto che io ho mai visto di fede stavo andando ero tornata a milano per dei lavori dal 2013 al 2018 ho vissuto a los angeles e un giorno tornando ero tornata a milano per dei lavori e tornando verso l'aeroporto ho visto questa cover quindi ottobre 2014 quando vivevo circa da un anno a los angeles ho visto questa cover in edicola e ho detto ma chi è questo tipo sarà un ragazzo straniero e invece era fede quindi poi ho letto fede sulla rivelazione ho visto che era un italiano ho detto buon per lui perché mi sembra proprio un figo però poi si è affermata lì la cosa però sono super affezionata non chiedetemi perché l'ho messa in bagno so così ma si apre così si apre fammi vedere bene che non lo so fare ok e poi e poi cosa si fa si mangia trovate gli ultimi articoli in saldo di chiara ferragni buone shopping guys l'ho fatto di nuovo ho rubato un altro accappatoio tiro paolo bu vaolo vieni giu vieni bau bau Ciao, ciao!